Il Corpus Domini e gli eventi lanciano la stagione a Lignano, alberghi tutti esauriti e buona fluenza in spiaggia e le punto sul traffico. Lavori anche in centro storico a Udine con la costruzione di due rotatorie sul ring, viabilità modificata fino almeno al 30 luglio. Entra in vigore oggi la legge sul cyberbullismo, tiene ancora a banco il dibattito sullo Iusso, li abbiamo raccolto qualche parere in Borgostazione. Bilancio di fine stagione per l'associazione Scherma Udinese che in programma anche l'ampliamento del palazzetto di Vialodi. Buonasera e buona domenica, benvenuti all'appuntamento con il notiziario di Udinese TV. Voi in apertura l'avete sentito, la buona giornata turistica a Lignano-Sabbiadoro. Si conclude un weekend a tutto esaurito grazie ad una concomitanza favorevole. Alle giornate con sole e temperature record si sono aggiunti la festività del Corpus Domini, l'organizzazione di Easy Fish, la rassegna di cucina delle pesce dell'Alto Adriatico alla Terrazza Mare e il premio Hemingway. Moltissimi friulani e turisti che hanno affollato la località riversandosi poi in spiaggia, oggi battuta anche da un piacevole evento. Francesca Zaghis, presidente del Consorzio Lignano-Olide, conferma che è stato un weekend da tutto esaurito, partito con gli arrivi giovedì da Austria e Germania e continuato con gli eventi organizzati in città. Abbiamo lavorato moltissimo e siamo soddisfatti da questo avvio di stagione, davvero, con il botto. E in concomitanza con gli afflussi dall'Austria e dalla Germania c'è stato qualche piccolo disagio anche sulla rete autostradale. Questa mattina l'uscita di Ugovizza, code in uscita per circa 4 km, come ci ha confermato il COA, quindi la polizia stradale, appunto per il ritorno in patria dei turisti. E qualche disagio anche questa sera al casello di La Tisana, ma ci racconta tutto, facciamo il punto con Raffaella Mestroni di Autovie Venete. Buonasera. Buonasera. Buonasera Raffaella, com'è la situazione? In questo momento il traffico è molto intenso, ma scorrevole. Ieri e anche oggi sono state due giornate tranquille. Oggi abbiamo avuto rallentamenti in più momenti della giornata in entrata al casello di La Tisana e dei rallentamenti al nodo di Palmanova per i turisti appunto austriaci e tedeschi che rientravano, che si dirigevano nuovamente verso Tarvisio. Per fortuna non ci sono stati incidenti e noi prevediamo che il traffico crescerà ulteriormente proprio da adesso fino verso la mezzanotte, perché sono gli ultimi che ripartono e ritornano indietro. Qualche rallentamento in uscita anche al casello di San Donà in Veneto per il turismo dei pendolari che vanno verso le spiagge. Quindi in questo momento alla Tisana com'è la situazione in serata? Ci sono dei suggerimenti da dare per chi si metterà in macchina? In questo momento il casello è abbastanza pieno, il piazzale del casello, ma non ci sono code, diciamo, non ci sono attese. Il consiglio è sempre quello di informarsi prima di partire scaricando la nostra app Autovie Traffico. È semplicissimo, la situazione è aggiornata minuto per minuto, il consiglio è di guardarla e casomai fermarsi a mangiare un panino e poi ripartire. Comunque dopo gli ultimi giorni un po' difficili ci confermi Raffaella che fra ieri e oggi la situazione si è andata normalizzando. Sì, sì, è stata proprio tranquilla, direi. Grazie, buon lavoro a te. Adesso cambiamo argomento, parliamo di traffico, ma questa volta a Udine ci saranno delle modifiche alla viabilità per la costruzione di due nuove rotatorie sul Ring Cittadino in Viale 23 Marzo. Allora ci racconta, ce ne parla, ci racconta di che cosa succederà Monica Nardini. Al Via Udine i lavori per la realizzazione di due nuove rotatorie in Viale 23 Marzo. Da domani, lunedì 19 e fino almeno al 31 luglio, diventeranno operative alcune modifiche alla circolazione conseguenti al primo lotto di interventi. In particolare, il tratto del Viale, compreso tra Via Manzini e Piazzale D'Annunzio, sarà chiuso al transito per i mezzi in arrivo da Viale Trieste verso la rampa in salita, alla quale si potrà accedere dal piazzale stesso. Rampa nella quale potranno invece muoversi liberamente i frontisti. In merito al collegamento per e da Piazzale D'Annunzio, resterà sempre percorribile il tratto del sottopasso. Verrà poi chiuso l'ingresso di Via Manzini, sempre dal Viale, ma anche in questo caso sarà garantita la circolazione a residenti e frontisti. Previsti i lavori anche nell'area del condominio Residenza Aurora, con il passo carraio di conseguenza inibito, ma al massimo per due settimane a partire da lunedì, conferma il sindaco Onsel, che spiega come questi interventi rappresentino un'iniziativa importante per mettere in sicurezza uno dei punti più critici della viabilità, garantendo e migliorando anche i collegamenti ciclopedonali. Obiettivo del Comune? Chiudere il cantiere prima della settimana settembrina di Friuli Doc. La cronaca, la polizia arrestato per resistenza pubblico ufficiale Mohamed Seccoma, marocchino di 24 anni, senza fissa dimora. Questa notte gli agenti delle volanti lo hanno fermato per dei controlli in via Leopardi, portato in questura ad atto in escandescenze, cercando di colpire gli agenti che lo stavano identificando. È stato arrestato e trasferito nel carcere di via Spalato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, potrebbe essere l'aggressore che giovedì 8 giugno ha colpito senza motivo due ragazzi all'esterno dell'autostazione in via Leopardi. Condanniamo gli atti vandalici commessi al Parco della Resistenza di Pagnacco in Friuli e teniamo alta l'attenzione di fronte all'avanzare di intolleranza e parole d'ordine violente. Questo è il messaggio scritto su Facebook dalla Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, commentando i danneggiamenti al monumento avvenuto ieri che ha distrutto le targhe commemorative dei partigiani caduti, ha detto la Presidente, ha messo la foto di Eric Kriprib che in divisa nazista ha commesso uno sfregio inaccettabile verso la memoria di chi ha sacrificato la vita per la libertà di tutti e verso i principi fondamentali della nostra comunità. Questi gesti, vediamo le immagini relative ai danneggiamenti, indicano un nemico e ne vogliono la distruzione, sono portatori di una carica ideologica molto pericolosa. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 3 di giugno, entra oggi in vigore la legge contro il cyberbullismo. Nel prossimo servizio vediamo in sintesi che cosa prevede. Ufficialmente in vigore la legge contro il cyberbullismo, approvata definitivamente e all'unanimità alla Camera dei Diputati lo scorso 17 maggio, dopo un percorso accidentato che ha visto il testo passare più volte dalle commissioni alle aule di Palazzo Madame Montecitorio, riguarda i minori e prevede una stretta sul web e il coinvolgimento delle scuole. Introduce per la prima volta nell'ordinamento una definizione del fenomeno, una realtà variegata, intesa in sintesi come ogni forma di pressione, molestia, ricatto, utilizzo illecito di dati personali realizzata online a danno di minorenni, comprendente anche, come forma di abuso attacco, la diffusione di contenuti riguardanti i familiari delle vittime. Altra novità, gli ultra 14 anni, e in ogni caso i genitori delle vittime anche più giovani, potranno chiedere direttamente al gestore di un sito o di un social network l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti oggetto della presunta cyberaggressione. Nel caso in cui quest'ultimo non provveda entro 48 ore, gli interessati potranno rivolgersi al garante per la privacy che interverrà entro le successive 48. In caso di condotte di ingiuria, diffamazioni, minaccia o trattamento illecito di dati personali da parte di minori ultra 14 anni verso altri minori, fino a quando non vi sia una querela o denuncia, il cyberbullo potrà essere formalmente ammonito dal questore, che lo convocherà assieme ad almeno un genitore. Ogni istituto scolastico, inoltre, è chiamato a individuare tra i professori un referente per le iniziative dedicate al contrasto del fenomeno. Il preside, per i casi che non costituiscono reato, dovrà informare subito le famiglie delle vittime di attacchi e attivare le adeguate azioni educative. E a proposito di minori, per una legge entrata in vigore dopo un voto definitivo dato all'unanimità, ce n'è un'altra che invece scatena tante polemiche politiche, quella relativa al DDL dello Ius Soli, con uno scontro a distanza fra parti politiche, tra Grillo che ha definito il DDL un pastrocchio invotabile, confermando il voto d'assenzione in Senato, invece il Premier Gentiloni che auspica un'approvazione rapida per approvare una riforma che definisce un atto doveroso e di civiltà. Siamo andati a raccogliere qualche parere di cittadini anche in Borgostazione. Rispetto a tutte queste discussioni sullo Ius Soli, lei che posizione ha? Sono assolutamente favorevole, tutti cercano di cattare su botti a destra, parlando a degli immigrati, ma certo figli di residenti qui hanno il pieno diritto di vivere qui. Li sfruttiamo, li facciamo lavorare a meno di quello che paghiamo gli italiani e poi non vogliamo dare neanche i diritti. Nascono qua e sono qua, non è che li cacciamo, no? E pertanto non ci sono, questa necessità urgente non c'è. Sono contrario. Come mai è contrario? Contrario perché credo che poi anche su questa cosa la si sfrutti in un modo non corretto. Con gli adeguati filtri come esistono in alcuni paesi europei ritengo che sia un qualcosa che deve venire, di cui avremo tutti bisogno per una integrazione più adeguata e a misura di cittadino. Secondo me se un bambino straniero nasce in Italia, a prescindere che i genitori non lo siano, è giusto che abbiano la cittadinanza italiana. Dobbiamo un attimino aprire i nostri orizzonti. Io sono integrata, sì. Penso che è giusto che i bambini che sono nati qua abbiano la cittadinanza. Perché sì, non è giusto. Lui è ganese, però non è mai stato in Ghana. Cioè, è nato qui. In America, anche Giammini. Sai cosa Giammini? Giamman. Loro fanno così, quando è nato bambino, è straniero, dai subito passaporto. Ma non so perché in Italia, quando sta ancora a parlare leggi, non leggi, comunque noi sono bambini, anche c'è tante persone, sta anche... Tempo di vacanze. L'Enternazionale Protezione Animali rinnova il suo appello contro l'abbandono. Non mancano gli abbandoni, anche se in calo, soprattutto nella provincia di Udine, come ci confermano anche dal rifugio di Via Gonars. L'Enternazionale Protezione Animali, a livello nazionale, lancia nuovamente la campagna anti-abbandono. Infatti, il primo, il 2 luglio, saremo qui in tutte le piazze d'Italia, proprio per ricordare che i nostri amici a quattro zampe possono venire con noi in vacanza. Non lasciamoli a casa. Qual è la percezione dell'abbandono sul territorio di Udine? Nel territorio, per quanto riguarda i cani, fortunatamente non c'è un grande incremento estivo. Per quanto riguarda i gatti, invece, purtroppo, ne arrivano sempre 30, tanti, troppi. Ricordiamo quanti sono gli ospiti complessivi di questa struttura? Sì, attualmente abbiamo circa 70 cani e 35 gatti. Questo è l'ultimo ospite che è arrivato, circa due settimane fa è stato trovato vagante, quindi ormai in un periodo estivo, e purtroppo è stato anche investito e necessita delle cure. Questa, ad esempio, è una gattina che è arrivata da poco, è una femminuccia che, assieme alla sorellina, sta cercando una casa. È quasi pronta per l'adozione, bisogna completare lo svezzamento. Il vostro messaggio è portarli in vacanza con noi si può nel sito dell'EMPA nazionale e offrite tante informazioni utili a riguardo. Sì, assolutamente, perché ormai in quasi tutte le città, in tutte le località di mare, di montagna, ci sono degli alberghi che accolgono gli animali, nei ristoranti si può andare con gli animali, quindi ormai ci sono tutte le possibilità. Tuffo nel passato ad Aquileia, grazie alla sesta edizione di Tempora, iniziata venerdì si concluderà questa sera, 500 i rievocatori che sono impegnati a far riscoprire la vita quotidiana di romani e celti all'epoca della fondazione della città. Siamo appunto nel 181 a.C., proprio l'anno in cui Aquileia è stata fondata e uno degli spettacoli, appunto, delle rievocazioni che sono state proposte in questi giorni è proprio il rito del sulcus primigenius, ovvero il rito con cui gli antichi latini fondavano le città, tracciando un solco con due buoi, appunto, che indicavano i confini sacri della città. Aquileia che, grazie a voi, ma non solo, lascia sempre più scoprire tracce del suo passato. Diciamo che è cominciato, è cominciato già da un po' un momento di rinnovazio, per Aquileia, diciamo, più che rinnovazio, di consapevolezza. Sicuramente Aquileia può e potrà essere un'importante meta turistica, perché parliamo non soltanto di cultura, ma parliamo anche di economia, quando parliamo di queste cose, e parliamo di una prospettiva anche per i giovani, che possono trovare in questa cittadina, in realtà in tut capitale dell'agro Aquileiese, effettivamente anche una locazione professionale che bisogna un po' inventarsi anche. Un legionario, la propria pulizia personale, la compiva con dell'olio d'oliva. Una volta passato l'olio, passava la lama sulla parte emulsionata. La lama raccoglieva l'olio sporco, appunto che aveva portato via la sporcizia del corpo, all'interno della parte concava. Chissà se funzionava poi il risultato finale. Funzionava, funzionava benissimo, noi l'abbiamo provata. Ha lei il compito di fare la guardia all'accampamento? Sì, ho mandato i uomini a bere, mi tocca fare me la guardia, nonostante che sono un graduato, ma anche questo per la legione. La città della chimica friulana, torviscosa, è entrata a far parte della rotta culturale europea, Atrium, che fa parte di un panorama di architetture dei regimi totalitari del XX secolo. Assieme ad altre 15 località distribuite di 5 paesi europei, rientra in un itinerario riconosciuto dal Consiglio d'Europa che ha l'obiettivo di riunire i territori con significative testimonianze dell'edilizia pubblica e privata e della pianificazione urbanistica dei regimi totalitari europei del XX secolo. I paesi in Atrium sono Albania, Bulgaria, Croazia, Romania e Italia che fa da capofila con Forlì. La richiesta di partecipazione di torviscosa è stata formalmente accettata dalla Sesta Assemblea Generale dell'Associazione che si è tenuta lo scorso 7 giugno nella capitale della Bulgaria, Sofia. Edizione da record, andiamo invece adesso in montagna per il Festival Risonanze che chiude dopo una quattro giorni di concerti, dibattiti, incontri dedicati al pregiato legno di risonanza. Oltre 2.000 le persone che hanno raggiunto Malborghetto e la Valsaisra per gli eventi organizzati dal Comune con il sostegno della Regione e della Fondazione Friuli e con la collaborazione dell'Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità. Non hanno deluso le attese gli ospiti più importanti Anna Fusek, Giovanni Andrea Zanon, Leonora Armellini e Giobatta Morassi. Oltre 2.000 presenze tra passeggiate guidate, visite alle mostre, laboratori, concerti pomeridiani e serali, numeri sbalorditivi se consideriamo che questa è appena la seconda edizione. Ha detto il direttore della manifestazione senza scordare che Risonanze ha proposto un cartellone di musica classica, un genere decisamente ostico per il grande pubblico. Numeri positivi anche per le attività ricettive e i ristoranti di Malborghetto che soprattutto nel weekend hanno lavorato bene sfiorando il tutto esaurito. E adesso passiamo allo sport. Tempo di bilanci per l'associazione sportiva udinese che ha tracciato una panoramica relativa all'ultimo anno positivo sul fronte agonistico del numero dei soci tra gli obiettivi futuri anche l'ampliamento del palazzetto di Bialodi. 1.500 soci e importanti risultati agonistici in particolare nella ginnastica ritmica ambito nel quale il centro di Bialodi è stato riconosciuto polo tecnico federale tra complessi di quattro in Italia. Soddisfazione è stata espressa nel bilancio dell'anno 2016-2017 dall'associazione sportiva udinese che ha parlato anche di una fase di crescita per l'artistica femminile e per la scherma. L'Alexandra Giugulese è la nostra punta di diamante ma sta crescendo di alto livello anche un gruppo di atlete nella ginnastica ritmica importante. Per quanto riguarda la scherma la situazione in via di sviluppo? Sì, c'è in atto un ricambio generazionale degli atleti e quindi adesso noi stiamo investendo sulla formazione dei nostri tecnici e anche sugli atleti più piccoli. Importante anche l'impegno dell'Aso a favore dello sport integrato con iniziative dedicate a persone con disabilità fisica e intellettive e l'intenzione di offrire stabilmente si spera da settembre attività di scherma alle persone in carrozzina. Tra i progetti futuri anche il potenziamento dei centri estivi della formazione tecnica e l'ampliamento del palazzetto per il quale si sta valutando la fattibilità economica e che è sempre più scelto per la preparazione da atleti italiani e internazionali. Grazie ai tecnici che sono presenti e grazie al tipo di impianto che possiamo gestire in modo autonomo sta avvenendo in modo contrario a quello che avveniva un po' di tempo fa. Fino a qualche tempo fa i nostri atleti più validi andavano ad allenarsi in altri luoghi, in altri impianti e con altri tecnici. Invece adesso nella ginnastica ritmica sta avvenendo l'esatto contrario. Siamo in chiusura diamo uno sguardo alle previsioni meteorologiche per domani su tutta la regione cielo sereno con venti a regime di brezza sui monti al pomeriggio sarà possibile la formazione di modesta nuvolosità temperature ancora alte. E con questo è tutto noi vi ringraziamo per aver seguito il nostro notiziario vi auguriamo una buona serata e una buona domenica con Udinese TV.